mmmm oi 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 buono mannaggia amore mannaggia gli è pieno osso fino agli occhi gli è un piano fino agli occhi non so come farà a mangiare a masticagnine vedete un maratona proprio lucido proprio un piano di se stesso maratona diciamo brillante non deve essere da meno neanche il perché si vede proprio con i cuochi gli occhialini e con l'occhi tra gliel'am filza ragazzi questo mio ristorante wow oh la la oh la la in questo ristorante viene veduto due tipi di sale uno gli è per il maratona e per il cuoco e un altro gli è per condire la mistecca vedete il tra tatatata con quanta delicatezza maneggia il sale vedete che spettacolo ragazzi vediamo un pochino i che vanno a fare la vanno ampia a tagnere vanno ampia a tagnere ma questo gli diciamo alla fine gli ha fatto i bolliti che gli ha fatto il lesso questa rusticiana lessa stralessa ma sanno una sega osso venitela fuori al rosto verissimo gli è crocanti che gli è con questo porcaio